mi stava piacendo mi stava piacendo molto la diretta mi stava piacendo molto la diretta e purtroppo il mio telefono ha pensato bene di saltare staccarla eravate quasi 3000 mi sembra 2900 quindi mi dispiace moltissimo perché una cosa che mi fa arrabbiare per non dire un'altra parolaccia ciao Gabriella Salvucci ciao Viviana Merlo ciao Sonia F ciao Tania Diuf ciao Tina Lai e sì si è bloccata ed è saltata la diretta purtroppo saluto anche Riccardo Mureddo a proposito di Sardegna parlavamo di Sardegna ciao Anna Gianella vi prego mi rifate le vostre domande qui ciao a Salvatore Fallica mi rifate Paolo Doninelli da Cosenza Giuseppe Bacchi è tornato Peppe Bacchi vi prego a tutti voi già che ho dovuto interrompere perché è saltata la linea di rifarmi le domande qui saluto Antonina Angelo Caroni Angela Carania Dario Dalcompare ciao Salvatore Cirlincione purtroppo è saltata la diretta e saluto Rosi Monteleone e quindi le domande a cui stavo rispondendo rifatemele qui tanto le cose di cui dovevo parlare ne ho parlato se magari mi volete spiegare raccontate fare le domande che avevate fatto lì rifalle qui Salvatore Fallica in siciliano mi scrive Ettolo su cellulare cioè getta via questo telefono cambialo e sì hai ragione Salvatore ma affinché non ho la possibilità di comperarne un altro mi devo tenere questo io non sono un consumista non sono di quelli che compra le cose anzi sono contro l'obsolescenza programmata di cui proprio Beppe per primo ci parlò come ricorderete e a me mi fa soffrire il fatto che dopo due soli anni devo buttare via o perlomeno cambiare magari lo rivendo un telefono cellulare che allora insomma costava tanto un iPhone 7s 7 plus mi scoccia un po' perché sinceramente stavamo in un flusso di comunicazione di domande di botta e risposta molto forti saluto Daniela Dargenio come stai Alessandra Gori Giulia Pozzuoli Vincenzo Enzo sto litigando con tutti per voi anche con degli amici saluto Giovanni Lanaio non abbiamo capito se noi commercianti aspettano i 1000 euro come dobbiamo procedere Monia Ermanni scrivimi in privato spiegami la tua situazione e ti darò ti darò una risposta e adesso pubblicheremo a breve un video con tutti gli aiuti del decreto rilancio saluto Clarissa Laporta come stai risaluto Valentina Mattarella ragazzi a me dispiace molto che mi si sia interrotta la diretta è successo saluto il grande Salvino Catanzaro da Sciacca portate fuori dal PD il nostro governo Movimento 5 Stelle difendete i nostri diritti civili italiani vincere elezioni io voto sempre loro bravi voto vostro Movimento 5 Stelle chi è che ha scritto questo messaggio strano Raissa Oliva grazie Oliva o grazie a Raissa non so se Raissa è il nome o il cognome Dino buonasera quando un po' lega il mio messaggio inviato in privato Alicia Mesino d'accordo Germano Valente io rappresento tutti gli italiani sia quelli che mi hanno votato che tutti gli altri l'ho detto prima lo so bene rappresento tutti gli europei in realtà tutti i cittadini europei però è chiaro che quando delle persone diciamo i cittadini il collegio elettorale che mi ha dato l'onore e l'onere di rappresentarlo in parlamento europeo deve avere contatti col parlamentare europeo per questo mi faccio tutti i weekend prima di sto coronavirus maledetto tutte le settimane libere tutto il tempo libero l'ho dedicato a stare sul territorio ciao Aurelio Caponnetto Aurelio Caponnetto era un nostro attivista deluso dal Movimento 5 Stelle io sono molto dispiaciuto della sua distanza dal Movimento 5 Stelle perché era un vero attivista è uno di quelli che non ha accettato ripensaci perché rimane il Movimento con tutti i suoi limiti l'unica forza politica che può cambiare questo paese ho visto che si era connesso anche Tonino Martorana il grande Domenico Turillo Mimmo Turillo allora ah sì Alessandro Ventura mi scrive una cosa importante grazie Alessandro Ventura Dino hai letto l'articolo del tempo dove si dice che l'intervistato da Repubblica leader di Al-Shabaab è morto nel 2014 questo è il livello dell'informazione in Italia bene caro Alessandro Ventura hai perfettamente ragione è successo questo per chi non lo sapesse il quotidiano Repubblica quello che ha detto delle fake news su di me talmente clamorose per cui l'ho querelato e aspetto di sapere come finirà e se per caso in sede penale non mi hanno ragione lo farò anche in sede civile perché ha detto delle bugie non peraltro il grande quotidianone Repubblica oggi più che mai sotto eh legida della Fiat anti 5 stelle anti governo Conte dalla mattina alla sera col nuovo direttore Maurizio Molinari che travaglio simpaticamente chiama Sambuca ehm dicevo il quotidiano diretto dal signor Sambuca ha ehm pubblicato un'intervista a un presunto leader di Al-Shabaab una formazione terroristica che avrebbe rapito Silvia Romano cosa è successo che Al-Shabaab e ai veri Al-Shabaab quelli insomma organizzazione terroristica gli è arrivata notizia di questa intervista e hanno detto guardate che quello che dite di avere intervistato è morto nel purtroppo è una cosa seria ma viene anche da ridere è morto diversi anni fa quindi chi cacchio avete intervistato che bugie dite persino un gruppo terroristico arriva a smentire un giornale italiano e questa è una cosa imbarazzante saluto Filippo Marchiano la penso esattamente come te Monia ti spettano 600 euro in automatico poi si chiede per avere gli altri mille devi dimostrare la perdita di reddito cosa pensi del fatto che qualora un dipendente si ammali in azienda il titolare può essere perseguito penalmente e civilmente è importantissimo grazie della domanda Ivana Lorefice attenzione un principale un datore di lavoro può essere perseguito penalmente e civilmente nel caso in cui non ha rispettato i protocolli di sicurezza nella sua azienda e il paziente si è ammalato per quella ragione per cui non è che se un paziente sia perché il paziente allora io sono il lavoratore di un'industria per esempio di una fabbrica di un ristorante di quello che volete voi di un'impresa d'accordo sono il lavoratore di un'impresa sto bene vado a lavorare poi risulto positivo al coronavirus e faccio causa al datore di lavoro non la posso fare perché io potrei benissimo essermi ammalato anche in giro poi la sera perché mi sono messo a bere una birra con gli amici ci siamo abbracciati e uno di loro mi ha contagiato io posso fare causa al datore di lavoro solo se dimostro che il datore di lavoro mi ha imposto di non rispettare i protocolli di sicurezza cioè se un datore di lavoro incosciente dice ai suoi lavoratori mettetevi tutti vicini chi se ne frega via le mascherine via i guanti lavorate vicini e fate come se niente fosse e beh quello lo devo denunciare sì ed è giusto ma se non è così e devo dimostrare però che sia così se non è così non è che uno che si ammala può denunciare il suo datore di lavoro perché potrebbe essersi ammalato fuori da dal lavoro in autobus per strada con gli amici poiché magari è incosciente perché magari ha fatto qualche è andato in giro senza mascherina se aveva abbracciato qualcuno se abbracciato qualcuno e si è ammalato è chiaro quindi l'unico caso in cui si può denunciare un datore di lavoro un titolare di un'azienda è quando c'è le prove che questo titolare non ti ha fatto rispettare i protocolli di sicurezza capiamola questa cosa perché a me non piace quando c'è uno screzio fra datore di lavoro e dipendente già sarà un periodo difficile dobbiamo evitarli questi problemi è chiaro che se avete un datore di lavoro che vi impone di lavorare senza misure di sicurezza ci sta di denunciarlo perché ragazzi ora ripartiamo il 3 giugno si riparte davvero alcuni ripartono già il 18 maggio il 3 giugno si riparte davvero ma ragazzi se c'è un nuovo picco di malattia questo paese è fottuto voi l'avete capito o no io mi auguro di sì per questo si è sbagliato fare manifestazioni e lo dico subito prima ho citato la manifestazione del 2 giugno di salvini della meloni ne abbiamo parlato cara tina tataranni ne abbiamo parlato ma io anche il 25 aprile che è una festa meravigliosa la festa della liberazione della nostra libertà della nostra democrazia io ho ritenuto sbagliatissimo che ci siano state delle manifestazioni con persone vicine perché sbagliato ragazzi perché siamo in un'emergenza sanitaria che è diventata anche un'emergenza economica un'emergenza occupazionale è un'emergenza di salute mentale per tanti italiani perché è troppo faticoso e interessante pensate ai bambini che stanno vivendo chiusi nelle loro case che non possono vedere i loro amichetti che non possono fare la loro vita quotidiana è un trauma e come lo è per i bambini lo è per gli adulti che hanno perduto il lavoro lo è per tutte le persone che hanno difficoltà quindi fare la manifestazione anche per una motivazione bellissima è quella della liberazione del 25 aprile è sbagliato si doveva fare come per esempio io nel mio piccolo ho fatto un ricordo manifestare da casa manifestare a distanza scrivendolo sui social facendolo delle dirette suonando cantando delle canzoni bellissimo ma ognuno a casa sua con la distanza di sicurezza se andiamo a manifestare per strada anche per la motivazione più bella che ci sia ragazzi sbagliamo perché allora non vedo se uno può manifestare può anche lavorare può anche andare a messa può anche giocare a pallone può anche andare allo stadio può fare tutto tornano i contagi e torniamo poi a chiudere tutto è la seconda chiusura chi regge la prima è stata dura la seconda chiusura chi regge nessuno sanatoria per immigrati cara patrizia vavoli non è una sanatoria è molto importante questo non è una sanatoria si tratta di mettere in regola quelli quei lavoratori che non avevano contratto e venivano schiavizzati e che siano veri lavoratori è chiaro perché sono schiavi sono stati ridotti a schiavi non è affatto una sanatoria se ci sono degli immigrati irregolari in italia che non potrebbero esserci che non dovrebbero esserci non hanno nessun tipo di sanatoria anche questa cosa chiariamola e devo dire che da questo punto di vista il movimento 5 stelle secondo me ha fatto un ottimo lavoro perché ha migliorato un progetto di legge che aveva delle cose buone ma anche delle cose negative invece proprio non è una sanatoria o basile romano si mi prenderò un nuovo telefono grande lì di adorno è tornata anche lei hai sentito ieri sala ragazzi non mi fate parlare di sala a ecco prima di prima di rispondere alla prossima domanda sono già 12.000 speriamo ragazzi mamma mia chiedo scusa se ne salto qualcuno sì caro caro saluto piero domenico per l'altro caro lori bologna la penso come te sull'assessore l'abbiamo già detto a me quello che fa impressione di questo paese è che fontana e gallera dicono in lombardia siamo stati bravissimi ma c'è un sentimento anti lombardo di razzismo ma come cazzo la potete dire una cosa del genere in lombardia siete stati bravissimi e la regione con più contagi del mondo in percentuale è il luogo del mondo con il massimo numero di diffusione di contagi di morti di diffusione del virus e voi dite siamo stati bravissimi voi avete fatto un disastro avete fatto avete detto milano non si ferma bergamo is running continuiamo non fermiamo riaprire fabbriche lavoro aperitivi feste atalanta valencia con lo stadio aperto avete fatto ammalare decine di migliaia di persone ci sono migliaia e migliaia di morti e dite siamo stati bravissimi avete detto faremo un ospedale che sarà il fiore all'occhiello anti covid in italia 600 posti letto no 400 posti letto no 250 no 200 no 150 no 120 alla fine erano 20 e ancora parlate e dite che siete stati bravissimi ma non vi vergognate ma voi vi rendete conto di cosa sarebbe successo se a fare questi casini fosse stata virginia raggi lo dico tutti i giorni perché virginia raggi viene attaccata pure se saluta un passante buonasera signora e poi giorno dopo i titoli di libero quella stronza della raggi saluta la gente per strada perché questo è il livello l'attacco sistematico a una che fa pulizia lo capite una fa pulizia attacco sistematico se avesse fatto un centesimo degli errori che hanno fatto in lombardia tutti sindaci di milano e di bergamo in particolare e soprattutto la regione un disastro la gestione un disastro con anche risvolti penali possibili per il più albergo tribunzi per tante residenze veranziani dove c'è stato un contagio terribile sono morti decine e decine centinaia di anziani e non solo di anziani se avesse fatto una cosa del genere virginia raggi i nostri giornali non avrebbero parlato d'altro avrebbero fatto gli speciali anti raggi già li facevano prima figuratevi se avesse fatto una cosa del genere invece lo hanno fatto sala gori vengono invitati allora sindaco sala milano come va riparte sì siamo bravi noi siamo bravissimi allora fontana o ma noi siamo bravissimi però purtroppo c'è un sentimento anti lombardo c'è del razzismo dice il leghista che sta là grazie a tutti gli insulti che hanno fatto nei confronti dei meridionali e degli immigrati sta lì per questo va bene un leghista dice c'è un sentimento anti lombardo non c'è un sentimento anti lombardo c'è la realtà i numeri i numeri parlano contro le le cialtronate che avete fatto i cialtroni che siete stati altro che sentimento anti lombardo e porro che se la pia col sindaco di forte dei marmi siete stati dei grandissimi cialtroni nel gestire questa emergenza e la gente giustamente ve ne chiede conto penso allo scrittore alessandro robecchi un grande scrittore anche un bravo giornalista milanese che giustamente dice oh noi qua abbiamo i morti e voi vantate noi abbiamo i morti a casa nostra e voi vantate ma non vi vergognate ma questo è il punto questa è la l'aberrazione dell'informazione italiana cioè che succede bianco e racconta nero questo è il problema non c'è più un aggancio con la realtà con i fatti c'è l'opinione il sofismo assoluto è come se io dicessi che io sono biondo sono una donna svedese coi capelli biondi e con questa faccia vi dico vi racconto questa cosa qua e voi ci dovete credere perché questo è il livello fontana che dice siamo stati si auto vanta siamo stati bravissimi chi parla male di noi è perché c'è un complotto contro la lombardia un sentimento anti lombardo o è il contrario chi vuole bene alla lombardia chi vuole bene ai milanesi chi vuole bene ai lombardi dice ma com'è che avete avuto questi cialtroni che hanno gestito così male l'emergenza proprio il contrario io de luca non lo amo anzi lo detesto come politico parlo di de luca il presidente della campania ma non si può dire che in campania si sono comportati da cialtroni come lombardia perché non è così in umbria che è una regione governata dal centro-destra si sono comportati meglio sono arrivati subito le i soldi della cassa integrazione diciamo la verità non è che io difendo i cinque stelle e basta io difendo chi lavora bene se c'è un sin se musumeci fosse stato un bravo presidente della regione ma magari ma magari ma in sicilia avremmo tutti già la cassa integrazione magari avremmo un assessore serio ce l'avevamo tusa perché musumeci aveva messo un assessore che si chiamava tusa che era una persona per bene bravo colto e competente è morto purtroppo in un incidente aereo mesi fa non lo ha sostituito e ora lo vuole sostituire con un leghista e uno si incazza da siciliano scusate non è che uno fa la critica così preconcetta fa una critica motivata e sensata allora scusate facciamo quindi rispondiamo alle ultime domande puoi parlarci dei contrasti di vedute scrive fiorella borgo fra salvini e la meloni ma vi dovrebbero parlare loro dei loro contrasti io vedo un'opposizione non responsabile in tutti i paesi del mondo l'opposizione ha contribuito a migliorare la vita in portogallo dei portoghesi in germania dei tedeschi in spagna degli spagnoli in italia si fa un'opposizione preconcetta contro conte nella speranza di fare saltare conte perché quello gli dà gli dà fastidio che ci sia uno statista vero saltare conte mettere un governo tecnico un governicchio poi magari andare al voto e mettere berlusconi presidente della repubblica questo è il disegno vorrei vedere se renzi si presta a questo disegno perché io mi preoccupo di una persona del genere allora lucia curti spero solo che i lombardi si ravvedono le prossime regionali e magari anche prima è farli dimettere la vedo difficile eh sì rosa gervetti dice giustamente anch'io detesto deluca però almeno lì un risultato c'è stato io spero che i campani non votino mai più per deluca spero che votino o per valeria ciarambino per chi sarà il candidato dei 5 stelle spero che deluca proprio se ne vada dalla politica italiana perché poi ha messo i figli a un tipo di modo di fare politica che a me non piace però gli vogliamo riconoscere che i numeri della campania sono buoni glielo vogliamo riconoscere o manco questo e questo lo dobbiamo riconoscere non saremmo obiettivi saremmo dei bugiari non sono bugiardo non dico bugie qua posso dire posso dire delle cavolate perché sbaglio delle opinioni delle previsioni che poi non si avverano certo sbaglio come tutti gli esseri umani ma non dico bugie se c'è un fatto non dico non racconto il fatto mascareando la realtà come fanno altri cosa ha fatto bertolaso brava bella domanda da parte di elide vezzani sta smontando il suo ospedale costruito a tempo regolo e costato 25 milioni di euro ma ben vengano fedez e la ferragni ma fedez e la ferragni con una cifra molto più bassa in tempi molto più brevi senza gran cassa hanno raccolto dei soldi ce l'hanno messo in a parte anche loro poi l'hanno raccolti per beneficenza hanno fatto una struttura che ha funzionato benissimo che è costata molto meno e che ha dato riparo e cura a molte più persone della struttura pompata con la gran cassa con la conferenza stampa con tutti i giornalisti ammassati peraltro nel periodo proprio di chiusura totale in lombardia giornalisti tutti ammassati per suonare la ceramella il violino a fontana e gallera bravi o il reparto i 600 posti poi questi posti che non erano manco 20 non sono riusciti a scrivere vergogna soldi buttati questi non lo scrivono giornale libero i talk show pensate se io se fabbio massimo castaldo se uno di noi un parlamentare 5 stelle maglio di stefano lo so uno che a vostra scelta andasse a dire in tv faremo un ospedale che sarà il fiore all'occhiello è 600 posti e curerà il virus a tanti italiani ok poi spendiamo una valanga di soldi pubblici per un ospedalino da 20 posti che poi è già praticamente fuori uso e chiuso ma cosa ci direbbero a noi giustamente che siamo dei cialtroni ce lo direbbero che abbiamo detto un sacco di cazzate che siamo che ci dobbiamo vergognare che abbiamo sprecato i soldi pubblici ce lo direbbero e avrebbero ragione ma siccome l'ha detto fontana che a stampa positiva zitti zitti sala milano non si ferma se l'avesse fatto virginia lo spot milano non si ferma gli sparavano le fucilate penso già all'editoriale di francesco merlo a virginia fantozzi virginia sbaglio felti avrebbe detto patata bollente no l'ha fatto sala sala non bisogna parlare male di sala sala dio magari sarà il nuovo leader del centro sinistra e sti cazzi che sarà il nuovo leader del centro sinistra chi se ne frega se fa una minchiata uno deve dire sala hai fatto una minchiata chiedi scusa chiedi scusa chiedi scusa non vantarti chiedi scusa questo dovresti fare filomena iomini scrive giustamente il voto a valeria cerambino io voterò a lei anche se fossi campano la voterei anch'io la carissima amica valeria che saluto e poi ci abbiamo luigi cirillo maria muscarà ci abbiamo tanti esponenti validi tra i regionali in campania e fra i nostri deputati nazionali anche ci abbiamo ci abbiamo gennaro saiello in campania ci abbiamo luigi io vino ce ne abbiamo tanti tanti bravi e per bene vediamo cosa scrivono tu che sei in europa e mi rappresenti anche noi sardi dimmi se è vero che ci spetta la zona franca integrale cara luisa desogus se ne sta parlando di questo in teoria integrale no però stiamo cercando di capire se questo si può ottenere anche alla luce delle difficoltà legate al coronavirus alle persone che ti seguono digli come è nato il 5 stelle così possono capire la visione di grillo ci state mettendo la faccia un giorno dovete rispondere dice alfio troianini aspetta alfio troianini ma tu sei quell'alfio troianini di sant'alfio in provincia di catania che giocava a calcio nella sant'alfiese perché se sei tu mi fa è una specie di carrabbata questa qui perché io avevo un compagno di squadra quando avevamo 13 14 anni che si chiamava alfio troianini di sant'alfio allora vi dico il movimento 5 stelle originario rispondo alla tua domanda è esattamente quello che come dire beppe grillo e già roberto casaleggio hanno affidato poi già e roberto purtroppo l'abbiamo perduto beppe c'è ancora ma sta defilato perché giustamente ha detto più volte il movimento deve camminare sulle sue gambe se noi saremo capaci di farlo grande e di continuare a di proseguire l'opera di riforme come reddito cittadinanza lo spazzacorrotti il decreto dignità eccetera che abbiamo portato avanti come dire cambieremo l'italia davvero finora l'abbiamo cambiata un po l'altra volta mi ha scritto un amico deluso dal movimento che però dice però sta scatoletta di tono l'abbiamo aperta io però vorrei che finisse il tonno e poi che ci fosse un nuovo piatto insomma cioè vorrei continuare quest'opera di rinnovamento e non è facile però come dire l'inizio è stato fatto e non è solo un inizio perché dei risultati ci sono anch'io soffro quando vedo orfeo direttore di rai 3 quindi vuol dire che ancora ci sono tante cose da fare ma non si può dire che non abbiamo fatto nulla e che o che abbiamo tra meno io ma tutto il movimento non ha tradito la sua la sua versione originale poi c'è qualcuno che una mattina si sveglia e dice io sono veramente grillino sono duro e puro quindi lascio il movimento e faccio un altro movimento ma com'è sta cosa sei grillino duro e puro te ne vai e fai un partito tuo ma perché beppe già roberto dicevano andate me ne fate un partito vostro a me non mi risulta sta cosa mi risulta che dicevano lottate dentro il movimento aiutate il movimento uno vale uno quindi fate due mandati e poi a casina e poi ci sarà un altro parlamentare al posto vostro questo mi risulta non fate i politici di professione invece chi c'è si fanno eleggere col movimento vedi paragone ma c'è paragone ma ci sono tanti altri anche a livello locale si fanno eleggere col movimento poi una mattina dicono il movimento non mi piace più ma non me ne vado non mi dimetto esco dal movimento e mi tengo bella stretta la vedete qua dietro questa è una sedio una seggiolina una seggiolina una piccola sedia di legno invece qualcuno si tiene bene stretto attaccato al culo la sua poltrona che sia una piccola poltroncina locale o che sia la poltrona di senatore di deputato però se ne vanno dal movimento ma non se ne vanno dalla poltrona bella coerenza ragazzi complimenti allora dittatura che caspano questa è una risposta chiedo scusa quanti troll ci sono caro francesco luongo se abbiamo tanti troll è perché noi diciamo delle cose importanti le vostre domande mi stimolano anche dei ragionamenti intelligenti quindi questi troll per un certo verso sono benvenuti anche perché la sostanza delle loro critiche è vicina allo zero ciao roberto cosentino sei un grande silvia galassi non capisco a chi rispondi lucia stasi come la de giorgia uscita maurizio boldrini salutiamo il professor boldrini oggi ho sentito anche il professor pammolli che era sono due miei professori delle dell'università dell'università di siena carodino fuori dall'italia stanno gestendo più soft il coronavirus non sarebbe il caso che per chi viene da fuori l'italia prevedere un tampone cara tiziana argentini iuri boccale c'è delle misure di sicurezza per chi viene fuori dall'italia non è che chi può arrivare in italia può fare come vuole deve avere un foglio deve dichiarare se è fatto la quarantena si misura la temperatura se serve si fa il tampone grazie gabriella scire giuliano imbrogno ultra roma mi piace che fa i nomi di chi è dove ci sono gli uomini di 5 stelle vuol dire che lavorate assieme gli altri dopo lo stipendio non guardano oltre il naso no per me è imbarazzante anche solo il pensiero caro giuliano di fare il politico di professione non si fa i politici di professione a ecco i tuoi ex colleghi delle iene cosa pensano i te del movimento sincero giovanni ruocco del novellis due cose a proposito delle iene saluto innanzitutto saluto la mia amica iole crivello che ha ragione dice vogliono lo stipendio intero per questo escono dal movimento sono arrivati 12 mila cannoli di siciliani soprattutto della zona di villa bate palermo eccetera che saluto la sicilia occidentale perché quasi la sicilia orientale catania siracusa messina la salutiamo sempre perché sta qui enna insomma come sapete io ho tanti amici in tutte e due le isole sicilia e sardegna però 12 mila cannoli per i ragazzi di bergamo grazie anche l'iniziativa del mio ex collega di villa bate manu e ismaele lavardera delle iene vecchio amico vecchio pazzoide che ha organizzato questo dei libri del dei computer per studiare sono arrivati dalla lombardia alla sicilia e dei cannoli della sicilia alla lombardia allora cosa volevo dire qualcuno mi ha chiesto non ricordo più chi cosa ne pensano i tuoi colleghi delle iene della tua esperienza politica del movimento cari amici i miei colleghi delle iene non sono un unico blocco quindi ci sono colleghi miei ex colleghi delle iene che votano movimento 5 stelle e non vi dico chi sono perché voi non ci credereste a parte che il voto è segreto ma se vi dico chi sono voi restereste con gli occhi così perché pensate che non lo sono in realtà poi sono grillini quindi ci sono alcuni che dicono che ho fatto benissimo alcuni che mi sostengono altri che mi dicono sei molto bravo in tv a parlare ma secondo me avresti fatto meglio restare alle iene altri sono grillini altri sono anti grillini altri non perdono occasione di attaccare il movimento sui social per esempio ce n'è anche uno che è stato il fondatore del primo meetup di reggio calabria antonino monteleone è stato il fondatore del primo meetup di reggio calabria quindi era un grillino grillino deluso che ora non fa altro che scrivere cose brutte contro il movimento sul suo facebook ognuno fa quello che vuole antonino è padrone di farlo come sono padroni tutti per cui non è che le iene sono un blocco unico all'interno delle iene ci siamo eravamo tanti sono ancora in tante non ci sono io ma le iene continuano ad andare alla grande e ci sono varie anime ci sono quelli di sinistra quelli di destra quelli cui non gliene frega niente la politica i grillini gli anti grillini grillini delusi neo grillini c'è chi dopo che io mi sono candidato iniziato a interessarsi di politica e vota movimento ci sono di tutto di più come in tutti gli ambienti allora grazie concerta in forzato scrive mister johnson politico che dice bugie deve essere picchiato di santa ragione le botte funzionano più della galera vedi no mister johnson io spero che la tua sia una battuta non penso affatto che vanno picchiati i politici vadano vanno redarguiti da un punto di vista sociale da un punto di vista sociale perché l'imbarazzo dell'italia rispetto agli altri paesi europei è che in italia il dirigente pubblico o il politico ladro inadeguato eccetera non viene sanzionato paolo borsellino che musumeci ha sfruttato per il suo slogan diventerà bellissima diceva una cosa importantissima e vi prego segnatevela questa cosa poi magari smettiamo perché questa diretta sta durando troppo è la seconda oggi abbiamo fatto due dirette lunghissime paolo borsellino diceva questa cosa qui diceva non è che un politico perché venga ricominciamo da capo paolo borsellino diceva questo in italia si pensa sempre che un politico è degno fino a condanna definitiva condanna in cassazione non è così perché la condanna definitiva riguarda l'aspetto penale della vicenda la condanna definitiva può non arrivare per prescrizione perché hai un avvocato bravo perché manca una prova perché una prova non si può più utilizzare perché cambia una legge perché hai un problema di salute per cui perché finisce un processo per qualunque tipo di ragione può non arrivare la galera non arrivare la condanna ed è giusto perché siamo un paese garantista ma da un punto di vista sociale se io c'ho un politico che parla con un boss mafioso e gli dà delle informazioni anche se poi non viene condannato anche se non ha commesso un reato oppure se lo ha commesso ma non è punibile grazie a tutti